Sono stati arrestati questa mattina a Bari i presunti autori dell'omicidio di Nicola Lorusso, padre del capoclan del quartiere San Girolamo di Bari, avvenuto nel capoluogo pugliese l'11 gennaio 2015. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia ha riguardato Leonardo Campanale, 46 anni, Gianfranco Caputi, 28, e Cosimo Campo, 27. Tutti rispondono a vario titolo dell'omicidio di Nicola Lorusso, di porto e detenzione di armi da guerra, ricettazione e favoreggiamento personale con l'aggravante del metodo mafioso. Lorusso, 59 anni, venne freddato in un agguato avvenuto in una strada del quartiere attorno alle 9.30, colpito mortalmente da 25 colpi esplosi con un fucile mitragliatore AK-47 Kalashnikov, mentre con la moglie era in auto per rientrare a casa. La vittima era il padre di Umberto Lorusso, attualmente detenuto a capo dell'omonima cosca mafiosa vicino al clan Capriati, da alcuni anni in contrasto con il clan Campanale, a loro volta affiliati all'Istrisciuglio. Entrambi i clan erano operativi nel quartiere San Girolamo nella gestione delle attività illecite ed estorsione ad esercizi commerciali ed imprese edili. Il conflitto tra i due gruppi criminali dal 2012 al 2015 ha fatto registrare numerosi episodi di sangue.